Storie di ordinari inciviltà in una città, Vittoria, che non riesce a debellare o quantomeno a provare a risolvere il fenomeno del randagismo. Così può capitare che due animaliste volontari debbono intervenire per salvare una cagnetta che in via San Martino presentava ferite alle zampe. Facile arguire dai tagli che qualcuno voleva fare la grande bravata e provare a mozzarle. Un caso che ricorda il cane Dream che, qualche anno fa, avevano amputato le zampe. Ma perché accadono fatti simili e si può gioire di queste bravate che non presentano un benché barlume di logicità nelle menti dei loro autori? Difficile riuscire a dare risposte a questi interrogativi, ma c'è comunque sicuramente un concorso di cause, come hanno tenuto a ribadire le due animaliste intervenute per salvare l'animale. Si tratta in definitiva di una miscela esplosiva che unisce, a dire delle due volontarie, l'insensibilità di certe pubbliche amministrazioni, le divisioni all'interno di alcune associazioni animaliste e l'inciviltà dilagante di una fascia di giovani che trova divertente e, come dire, gratificante, meno mare, gli arti di un animale. Un mix di motivi, secondo le due animaliste, che contribuisce ad allontanare, specie nel nostro territorio, la soluzione del problema.